Ciao a tutti e bentornati sulle memorie di Raziel con The Witcher 3 abbiamo affrontato i cavalieri e quindi fatto la sfida a cavallo nella tenuta della famiglia, non mi ricordo, Verberghe, una cosa del genere finita la gara si è avvicinato uno che ci ha dato una lettera e dobbiamo fare la missione adesso vi faccio vedere una missione secondaria che è questa parla con Manaya della lettera raccogli, raccogli, raccogli non sapia io che era una bottiglia Manaya, Manaya, eccolo là Carlo Varese che cos'è il palio? dai vicino al mio paese dovete sapere che c'è un un altro paese che si chiama Cuccarobetere dove fanno il palio del ciuccio cioè fanno la corsa con gli aseri guarda che mi ammazzano questi vabbè 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 minchia se corre questo oh basta, non esageriamo però non è semplice il mio cavallo è già stanco ma poi non aveva detto che era per le strade della città questo è all'esterno poi di notte ci sono i mostri dentro i campi di grano qua vai vai ripigliate un po' ripigliate ripigliate no, 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 no sto scherzando sto scherzando comunque Rutilia è un gran bel cavallo ok ok ma quando è che finisce sta gara? ok 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 dai 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 no non mi superare bacheca degli annunci vai 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 bello ah si ecco adesso entriamo in città mi sa dove non si potrebbe vabbè ma anche le guardie lo sanno dai ah ho vinto ah perfetto c'era persino il re dei mercanti che mi ha detto congratulation bacci un bacio lascia sta no sfrontato bastardo eh eh parrocchi da corsa adesso dobbiamo scappare eh eh io non c'entro nulla eh io che cacchio c'entro non c'entro niente eh livelli di panica del cavallo il doppio praticamente oh eh si si voi combattete pure io me ne vado dai come on dai ciao ciao eh ciao allora abbiamo fatto questa missione secondaria vediamo quali sono le altre missioni secondarie eh volontariamente ispeziona la zona quella lì dove c'è stato quel suono strano eh a Novigrad potremmo fare questo oppure un gioco pericoloso e ottieni le carte quelle la del eh parla con i cacciatori o vogliamo farne una un po' più un po' più lunga diciamo così eh vai dall'indovino vai alla linea di partenza della gara gara e nido del corvo eh cacchio facciamo quello questo qui quello di Filippa wow a 1300 metri no eh rocce salta giù rocce vai che prendo un no non spegni ok prendo un viaggio rapido così facciamo prima vediamo vediamo è qua quindi mh covo dei partigiani si dai qui c'è pure Vernon Roche vieni Rutiglia ok allora qui se non erro ci sono pure i lupi però vabbè o lupi o non lupi andiamo ad affrontare che che poi secondo me noi alla fine l'aiutiamo a Filippa secondo me perché Radovid non è che ci stiamo così tanto a cuore oh 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 vediamo ricercate in tutta la Redania cacciatore di streghe cacciatore di streghe cacciatore di streghe cacciatore di streghe perforato i polmoni nicchia carne carbonizzata fino alle ossa parliamo con lui ok uno che risolve i problemi è un witcher a me to solve your troubles Radovid sento me no it's you I've been waiting for you ah where it was you haven't been able to get inside tell yesterday fino a ieri quando abbiamo trovato questa la mattonella ottimo lavoro ottimo lavoro chiave del nascondiglio di philippa ailehart ailehart eeeh 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 in gufo ed è fuggita è volata attraverso il kidwin e la redania non è che è il gufo di coso è il gufo di zoltan civey civey è un grande paio del tempo il quale ha il gioco l'uomo il gioco un po' di trappe eeeh 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 ah eeeh 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 Questa sarà a lunga Quindi No no Ci sono abituati Ok Non si vede niente Però lì sotto Quindi facciamo così C'ho del gatto Gatto No Consumo Ok Preciso Ok vediamo se c'è questo meccanismo Eccolo qua Manca una piastrella Esatto Messa la piastrella Per fortuna che c'ho Accendi Gatto Ah c'è un portale C'è un portale Da questa parte qua Qui qui che cosa c'è qua Una cosa da prendere No 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 Non si è fermato Aglio Che sola Non si è fermato Non si è fermato Non si è fermato Mi hanno detto Mi hanno detto Shhh Perché è tardi Che sola Che sola Non si è fermato Stavo guardando Il fatto del Accendiamole Ste torce Perché così Quando mi finisce Gatto Almeno ci vedo Stavo notando Avete visto Se io affino i sensi da witcher Qui sotto C'è qualcosa Oh ma è qua Oh ma non si prende Vabbè Eh Eh quindi Eh No lo so Non posso prenderla Devo andare Andia C'è un baule Vediamo Ok Esaminiamo E' una piuma Di gufu Penso Oh Accendi sta torcia Lì ci sono Nei mostri Neckers Non avrei aspettato Tanto No Mica Ma che tipo Di necker Sono Non so Che tipo Di necker Sono Sono più grossi Sembra Ma molto Più grossi Sì Avete visto Si muove Come Lara Croft In Tomb Raider Cioè Non si fermano Subito Non è un Un sistema Di gioco Tipo Splinter Cell Che è dove Gli dico Di fermarsi Si fermano Salviamo Perché lì c'è Un altro Necker Ok 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 Preciso Ok E' morto E' roba Da necker Accendi Sta torcia Che ci metti Tanto A puntarmi Le torci Ma Vabbè Ehm Come faccio A scendere Scusatemi Ah Lì Sembra morto Eh Che segno Siamo Igni No Ha sbagliato Tasto Eh No Igni No E' hard Si Ok Ah Questo è Una guardia Menomale Si Si Ma Ah, e tu fai tutto per una medaglia. Ah, dammeli. Riformano la loggia. Va beh. L'ho rotta. Abbiamo bisogno di aspettare fino a che arrivano per noi. Non c'è nessuno che arrivano per noi. Dicci la cristal, ci saranno qui. Ma i monstri? Spero te proteggeri. Ma se non puoi? Sei un buon pochino e dici la cristal. Sono un buon pochino. Tu sei. Raccogli. 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 Lettera a Filippa. Vediamo cosa c'è scritto. Cara Filippa ti scrivo mentre sorseggio il tuo cocktail preferito sulla terrazza della tenuta di Metinna di mio padre e mi chiedo che diavolo stai combinando? Potrei capire se tu ti fossi stancata di me e potrei accettare il fatto che non credevi in noi come coppia o che hai trovato un modello più giovane e bello di me. Ma per amore dei dannati dei distrezzati. Ah è quello eh. quel che con tutto rispetto grasso porco anziché me non so se la sperimentazione dei tuoi nuovi intrugli ti abbia annebbiato la mente o se si tratta di un altro dei tuoi giochetti ma anche se dovessi avvicinarti a quel primitivo per ragioni politiche non capisco perché la nostra relazione debba finire. Dopotutto non sarebbe certo la prima volta che dobbiamo nascondere il nostro amore. Chi sa chi è? Vabbè chi è? Ah ha scaricato una... ah giusto perché quella era... vabbè intanto salviamo. Dov'è che si mette il cristallo? Non lo so. Qua però c'è un'altra piume. Ok. 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 Va bene. Aspettiamo che finisca gatto. E così magari ne beviamo un'altra. Quelli sono carbonizzati non mi piace per niente proprio. Allora è finito l'effetto di gatto. Vediamo. Lì si vede poco e niente quindi io farei così. risalviamo. Ok. Ok. E... Andiamo in inventario e ci riprendiamo un gatto. Gatto. Seleziona. Facciamo così voglio. Ok. Ho preso gatto. Uh. Andiamo dai. Non dirmi che è finito gatto. Non ecco. Ok. 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 No. Minchia si sono veloci. No. 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 Minchia. Lo sapevo io. Peccaggio sbagliato. Ho lasciato hard. Ma porca merda. Porca merda. Vabbè. Io ve lo dico. Allora. Eh. Facciamo così. Quen. Ce lo prendiamo. Ehm. Ci mangiamo pure un alveare qua. Ok. voglio. No. Dai. Dai 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 dai. No. No. Dai 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 Preciso voglio Ok Mamma mia voglio Qua c'è un buco Ci sono dei necker E uno Qui c'è Un'altra piume Ok Salviamo Ok 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 Dammi nel nascondiglio Eh ma non ho la cosa Non ho Eh allora devo scendere per forza di là Fammi vedere Qui c'è un cacciatore di streghe Ok 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 Ammazziamolo così Se riusciamo Tanto Ok Non mi va di scendere Perché lì Lo vedete Quello lì E' il cacciatore E' il cacciatore Ok 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 Vabbè Facciamo così Samu No Infligge Ok 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 Preciso Ehm No Meditazione posso farla? Sì di un'ora Non puoi farla adesso Allora No l'altra Ok Ok No no Ok Oh sti necker sono strani Sì Ok Va bene Ce ne sono altri Direi di no C'è la di energia presa Ok Ok Qua non c'è più nulla Saliamo Dai Allora posso fare così Questo è un portale ma non c'è Va bene Posso fare così Meditazione Di un'ora Preciso Così Non mi sono ripreso però Ho Ho rifatto Facciamo così Perfetto Ok Ok Ha salvato da solo Ok Qui Lì sopra Dov'è Lì sopra C'è il nostro amico Qui c'è Dei funghi Qui c'è Un Kit di riparazione Qua chi c'è Non lo so Lì sotto però c'è un baule Voglio L'avete visto Vogliamo andarci Che sicuramente Dobbiamo andare dritti Di là Qui pure c'è un baule Pagina Un momento Anticostrutti Inferiori Non lo so No Che cacchie Qua Facciamo così Tanto No Armatura da Cavaliere Cida Ariano Ok Farsetto Da cacciatore Di taglie Più Altra roba Ok Rifacciamo La stessa cosa Di prima Quindi Meditazione Un paio Non puoi farlo Adesso Perché Non ci sono Amici in zona Dai Ok Si Teniamo questa Allora Facciamo pure un'altra cosa Salviamo Pensavo che fosse più corta sta missione Invece No Bella missione Dai Allora Vediamo Quei mostri Niente Però No Ehi Fermo Raccoglio 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 Lipo Quen Minore Raccoglio Ok Eh Questi sono finiti bruciati Io Passerei di qua Allora Lì c'è un drago Oh Che cos'è Quel coso Ifrit Of course Esatto Doveva esserci una cagata di mostro Mannaggia a lui Mannaggia Questa accende fuoco Voglio Eh vabbè dai Ammazziamo Proviamo No Ma dobbiamo parlargli Mi sembra proprio Di no Questo non vuole parlare con noi Direi proprio di no Ok Se passiamo dove è passato lui Prendiamo fuoco No Si comunque è tipo un troll E' un troll Non di erba Ma di fuoco Vedete Eh ma come lo attacco io Eh No Sto prendendo fuoco Si Danni da incenerimento Oh Oh Eh no Danni da incenerimento Allora Contro il fuoco C'è l'hard Posso provare Ma tanto Non cambia niente Adesso farà la sua mossa Dai La pevo io La pevo io Dai L'ho spento L'ho spento L'ho spento Ah minchia Con hard Si spegne Voglio No Minchia Che mazzata Però Dai 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 Sì 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 Ok 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 Mizze Bevi va Tu mica sei come l'altro Per recuperare l'energia No Culo Azzia Eh lo sapevo io Bevi succo Bevi succo Eh Ti ho fregato stavolta voglio Ok colpito colpito Mancato No micchia No cacchio Ma disintegrata Avete visto Non c'è rimasto niente Praticamente È difficile perché Una botticina sua Ti toglie Praticamente Tantissimo Cos'è che c'era Però Se riesci Oh Sì 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 Ok Ok Pensavo che mi avessi colpito Ok, ok Tanto adesso conosco le mosse Oh, conosco le mosse No, minchia Conosco le mosse No, minchia Perché a un certo punto conosco le mosse Dai 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 Cosa fai, cosa fai, cosa fai Oh, mancato Oh, mancato Vieni, vieni Vieni che adesso ci divertiamo Vieni Dai fermi Non accendere gli animi qua Minchia No, no, no Spegniti, spegniti subito Ok Ho giocato meglio prima Minchia Ok, ok, ok Ok, ok, ok Minchia Latte di mucca Recuperi tanto Ok Calibraccia lunga è questo Dai che latte di mucca recuperi abbastanza tantissimo Eh, va buono Eh, sì, vieni Dai, buttiti a terra Vai Oh, recuperi? Non recupera niente questo Ah, sì, ok Pesce, vediamo quanto recuperi Eh, pesce ancora di più Guardate Ah, adesso lo faccio girare un po' E poi Poi gli do sotto Ma gli ha da rosto pure Recuperi un botto Eh Bomba mitraglia Vediamo che cosa gli fa Ma secondo me gli fa Minchia Gli fa tantissimo Gli fa Si è acceso Dai, vieni No Eh, va buono Vediamo un maiale a rosto Maiale a rosto pure Dovresti Oh Oh No, no Dai Ok Vediamo, vediamo Difficile sta missione Ah, non gli ho tolto nulla Praticamente Ok Allora, otteniamoci Questo che non si sa mai Magari lo accechiamo E poi Lo pecchiamo di botte Eh, questo subito Piglia fuoco Ehi Ehi Stai esagerando Mannaggia a te Ehi Parca merda Dai, dai Ripigliate 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 Che questo adesso corre I fritt si chiama Nel senso che ti fa fritt Si te piglia Ok Dai No, no Che fai Scaldi gli anime Ok Ok Fugaccina dolce Ah, ce la fai? Ok, ok Casta Un paio di botte Te le do Ok Dai, vieni qua Minchia Ok, fatta Lo salto Merda Ok, ok Ok, ok È morto Scappa Scappa che questo esplode Scappa che questo esplode No, non è esploso Preciso Preciso Raccogli Pietra runica Daz Daz Bog Frammento infuso Cuore di golem Vedete, era comunque un golem Voglio, io direi di salvare Posso farlo? Sì Preciso Andiamocene di qua Vediamo com'è Esamina cosa Ah no, raccogli Vediamo Funghi Allora Golem passato Quen Andato Preciso Letto, tavola, alcune sede Modesto Esatto Non c'è nulla Ah sì Tutta sta roba Da esaminare Ok, strumenti chirurgici Sparchi Ho operato Qualcuno Qui Magari stesso Lei No, però Sembrano Delle vasche Perfetti Tipo Appunti Ok Vediamo qua Tipa Qui Questo è Quello per i teletrasporti Un megascopio Esatto Qui Non puoi farlo adesso Qui c'è qualche altra cosa Disinfettante Lì c'è qualche altra cosa Cristallo levigato Eccolo qua Ok Quindi dobbiamo uscire da qua Praticamente Se ci riesco Però Qui che cosa c'è Ah un'altra piume Va bene Ok 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 Eh ma Come faccio ad andarmene Devo riattraversare Lo stesso portale Non lo so Lo sapete che non lo so Qui sotto Non mi ricordo neanche Siamo andati Ok Sì 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 Ok Quindi Teoricamente Qua Siamo indietro Così Esatto Qui non c'è più nulla da prendere Giusto? No Sì 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 Non vedo niente Ok Dovremmo Reincontrare Il tipo Che Presumibilmente Era qua No No Non lo so Ah ma forse Se n'è andato Non lo so Va bene Se ne sarà andato Per i fatti suoi Perché questi Sono i necker Ok Qui ho preso tutto Poi ci Ok Ok E poi ho aperto Il portale Non ho fatto niente Venga Non sono affari tuoi Sì Un cristal Eh lo sai che non lo so Perché Filippa era amica Con Triss Non sono affari tuoi Vai Non sono affari tuoi No no Esatto Esatto Come as you wish. Grab him! Come on! Come on! Move closer! Watch out! Eh! Non è valido! Ok! 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 Proteggiti! Proteggiti! Ok! 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 Eível! Ok! 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 che giusto ahi, corre qua ok oh ma sempre questi questi li becco sempre non una volta se una volta no sempre qui ci sono i maialini si entra di qua per la casa di Tris ok ah vedi padrone di casa non l'avevo letto vabbè avete qualcosa da mangiare perchè ho finito le scorse ma la prendo ne ho detto manco una parola perchè ma è storta sta casa belli ok ci sta ma è vicino ok dov'è minima è nuda mi puoi parlare però teggio parla prima io ok vuoi dirmi qualcosa Radovin sta cercando ok perchè qui poi entra in ballo pure un'altra missione secondaria sì 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 esatto 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 lo ripara? no, che cosa fa? Francesca è ugualmente hesitating mi ha bisogno di decidere blindamente si resta hesitating as soon as we convince Kyra and Fringilla Fringilla is on our side she'll join us as soon as she finish some business in Nilfgaard wonderful, that leads Kyra il problema è che non ho idea di dove sia, eh vabbè, io lo so Yennefer and Tress Yennefer's never belong to the lodge e Tress, beh, lo vedremo, deve recuperare la via poi potrò andare a Novika e parlare con Arthur e Devles, eh? mi è triste se sia lì in città, ok eh, esatto eh, esatto Vilgevorst ce l'ho sto dicendo su me c'è più di mezzo eh ehm... vabbè eh scommetto che Raduvi sarebbe entusiasta di ottenere questo cristallo Non gli devo dire quella cosa Sono le maghe più potenti, X-Men chiaramente tentano di ripristinarla, esatto, e tu ne farai parte Dipende perchè È passata in mezzo a quel coso, Coro È ripassata in mezzo a quel coso Radovid e l'Empereo non sarebbe piaci I due dovrebbero rispettare le nostre opinioni E nessuno ha piacere il potere Le nostre opinioni? Ci si uniscono? Non, ho altri plani Quindi, cosa vuoi il cristallo? È roma Non ho mai avuto Radovid ne va avuto È roma È roma Non lo so, non lo so, non lo so? Si, non lo so, cioè È roma 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 È Riferisci a Radovid Poi abbiamo finito Ma una cosa Se io sono diciamo così Contro Radovid Cosa gli riferisci? Si La prossima volta però adesso vado da Radovid Poi Una altra missione vengo da te Ciao belli Ok 1800 metri Ok Troviamo un viaggio rapido No eh Vabbè Oliu comunque come missione C'è stata E' stata una bella missione Lunghetta pure Quindi verrà Spero pure un bel video Una cosa sola Che mi dispiace Che riesco a caricarne pochi Veramente Più che altro Per un fatto di tempo Dove è che devo andare? Ma di qua Minchia dov'è? Vabbè Ah perché lui è Oxenporto Noi eravamo a Novigrad E Stavo dicendo più che altro Per un fatto di tempo Perché la mia connessione Ma io Non posso lamentarmi Perché ho una buona Buona Una discreta connessione Dov'è che si saliva? Di qua si saliva Forse devo parlare con Lo so A te mancano i denti Però Ok E L'unica cosa è che ci mette Veramente troppo Perché Sono comunque Renderizzati tutti a 1080 Anni un mitrate Ampio Quindi A 50 bit 50 megabit Allora Ok 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 Perfetto Ci siamo Innemicati Pure Un re Quindi Anche per Questa missione È tutto Ci vediamo Con la prossima Missione secondaria Magari Con The Witcher 3 Ciao a you Alla prossima Ciao